Benvenuti nel mondo degli orologi Vacheron Constantin. Vacheron Constantin è un'azienda svizzera che produce orologi di alta gamma dal 1755, conosciuta in tutto il mondo per la sua maestria nella creazione di orologi complicati e di lusso. Essendo uno dei più antichi produttori di orologi al mondo, il marchio è sinonimo di qualità, artigianalità e innovazione. La sua collezione di orologi include una vasta gamma di stili, materiali e complicazioni, sia per uomo che per donna. Tutti gli orologi del marchio sono caratterizzati da una grande attenzione ai dettagli e alla qualità, grazie all'utilizzo dei migliori materiali e dei movimenti di orologeria più sofisticati. I modelli iconici di Vacheron Constantin rappresentano una combinazione di tradizione, artigianato e innovazione. Con una storia di oltre 250 anni Vacheron Constantin è uno dei marchi orologeri più antichi e prestigiosi al mondo. Tra i modelli iconici del marchio troviamo il patrimoni, questo orologio ultrasottile si distingue per il suo design pulito e raffinato, che col tempo ha visto nascere diverse versioni con le migliori complicazioni della Maison, dalle fasi lunari alla ripetizione minuti. Ma non solo, del patrimoni spicca anche l'incredibile movimento ultrapiatto come il calibro 1731 che misura solo 3,90 mm di spessore. Un altro incredibile modello storico della Maison è l'Historique American 1921. Questo segnatempo ha fatto molto scalpore per la corona posizionata tra le ore 1 e 2, ma soprattutto per il quadrante ruotato di 45 gradi, pensato per facilitare la visualizzazione dell'ora per gli automobilisti negli anni 20. L'ora poteva essere letta senza il bisogno di ruotare il polso, questo fu l'incredibile ingegno che rese questo modello molto ricercato dai collezionisti di tutto il mondo. Ma la massima espressione della capacità dei maestri orologiai di Vacheron Constantin viene rappresentata con l'orologio celesti Astronomical Grand Complication 3600. Questo segnatempo incredibilmente complesso porta al suo interno ben 23 complicazioni per la maggior parte astronomiche. Tra le svariate funzioni spiccano il calendario perpetuo, un'equazione del tempo, una carta celeste e addirittura un indicatore delle maree. Tutte compaiono sul quadrante anteriore e posteriore dell'orologio, fornendo una lettura dell'ora in tre modalità, quella civile, quella solare e quella siderale, ciascuna azionata dal proprio treno di ingranaggi. Insomma, Vacheron Constantin è un marchio con una storia di lusso e prestigio. Una maison caratterizzata da orologi che hanno rivoluzionato l'orologeria di tutto il mondo, dalle innovazioni senza limiti alla qualità superiore dei suoi orologi. Grazie a tutti.